Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, alla zuppa di porro di oggi 24 agosto. Allora, il tema fondamentale della giornata è che ieri si sono visti i capogruppo di Movimento 5 Stelle del PD, vi ricordate lo streaming di Bersani, quanto si mandarono a quel paese? Adesso si sono visti tranquillamente come se nulla fosse e come se non bastasse, nonostante alcune smentite, tutti i giornali oggi dicono che Di Maio e Zingaretti, il governo Mazinga, oggi Parenti prende in giro questo governo Mazinga perché dice non ci togliete pure Mazinga che era per noi un mito, insomma questo governo Mazinga si è visto a cena a casa di Spadafora, immagino la cena a casa di Spadafora tra Di Maio e Zingaretti. La situazione secondo i retrosceni di tutti i giornali è in questi termini. Zingaretti avrebbe ceduto sulla sua richiesta di non portare la riduzione dei parlamentari che dovrebbe essere votata con una legge costituzionale a ritorno all'apertura delle camere a settembre, ha detto no, si può fare, nonostante due volte abbiano votato no alla riduzione dei parlamentari in Parlamento, appunto il PD. Dall'altra parte però Conte diventa la pietra dello scandalo, perché Di Maio vorrebbe che il prossimo governo fosse guidato da Conte, un Conte B. se Zingaretti dice beh questo non lo possiamo sopportare, anche se su questa vicenda, nota qualcuno oggi, ad esempio Minzolini sulla giornale, insomma una parte del partito aveva già detto di sì, e cioè Renzi ha detto va bene anche un Conte bis. Vespa, che è uno che se ne intende di queste vicende, dice ma insomma è ancora difficile capire se questo governo, sul quotidiano nazionale, Vespa dice è ancora difficile capire se questo governo si farà. Quello che è certo è che probabilmente dovremo capire e poi come si mettono d'accordo su tante cose molto più specifiche e molto più concrete, non Conte, non Conte che è l'unica forza concreta, quei dieci punti fumosi del Movimento 5 Stelle, insomma come la penseranno sull'Europa, su Putin, sull'America, sulla TAV, sull'IVA, sul reddito di cittadinanza, su tutte le cose, sul decreto sicurezza, che è un altro tema che evidentemente è molto caldo. Sallusti oggi nel suo fondo del giornale non ha dubbi, questo è il governo del non fare, devo dire che è abbastanza convincente, perché una cosa certa questo governo, oggi in un'intervista della Scani mi sembra che lo chiarisca, Scani è una delle renziane intelligenti in questo momento, e l'unica cosa che ci unisce, sapete qual è? È quella che ci mettiamo d'accordo insieme a Di Maio, che ha governato per 14 mesi con Salvini, per far fuori Salvini. Nel frattempo i giornali ricordano come Salvini, e c'è un'intervista di Centinaio che afferma e che avvalora questa tesi, in realtà avrebbe offerto a Di Maio di fare Presidente del Consiglio, con lui Vicepresidente del Consiglio unico, insomma Salvini è ritornato indietro, anche se poi tra poco vedremo cosa ne pensa il foglio. Scusatemi, lo capisco che è un gran casino, ma questa crisi è un gran casino, io non faccio altro che riportare quello che dicono i giornali. Una cosa però è chiara, se ci sarà, e io non l'avevo capita fino in fondo, e quindi ve la trasmetto così come l'ho capita e me l'ha spiegata bene Minzo in una pagina intera del giornale, che è un grande conoscitore, come Vespa della Vecchia Repubblica e delle trattative sotto banco, cosa succede se si riducono i parlamentari? Se si riducono i parlamentari, e vabbè questi possono dire essere molto contenti, ricorda Sallusti la prima cosa che fece il vecchio governo era quello di ridurre i vitalizi, quindi le cose anticasta piacciono al popolo, ma basta questo? No, non basta, per il semplice motivo che una volta che riduci i parlamentari, l'accordo tra Zingaretti e Di Maio sarebbe quella di cambiare la legge elettorale e farla più proporzionale. Insomma, nessuno potrà mai vincere in Italia, perché si dovrà ritornare a quella bella, favolosa prima Repubblica, per cui anche i partiatini minori hanno il loro peso nella partita, i sondaggi peraltro sono ancora molto incerti, ma comunque col sistema proporzionale è il solito sistema per cui non ci inseranno altro uno che ha pieni poteri, come chiedeva Salvino, nessuno comanderà, è l'Italia che non comanda, quindi meno parlamentari, sistema proporzionale, l'ambiente, la socialità, questi temi di sinistra che non si riesce a capire poi bene come si concretizzano, poi nella pratica come si metteranno d'accordo lo sa solo il cielo. L'avvenire, il giornale catto comunista per eccellenza, il vero manifesto dei giorni d'oggi, che cosa dice? Passi programmati, insomma, positivo sugli accordi che avrebbero raggiunto, cioè l'avvenire, come spesso fanno i giornali di parte, confonde forse i propri desideri con la realtà, dice i passi sono tantissimi che hanno fatto ieri Di Maio e Zingaretti, c'è da dire che l'idea solo che si vedano a cena Di Maio e Zingaretti è pensato a un governo, sei mesi fa sarebbe stato anni luce, ma il vero sasso nello stagno politico che vedrete avrà un peso è l'economist, voi direte ma che te frega dell'economist? Beh, insomma, però ha un certo peso, il settimanale economico più venduto al mondo rappresenta un certo mondo, un certo potere, un certo establishment, e voi che cosa pensate al giornale liberale per eccellenza, anglosassone per eccellenza, che dica si vada a votare, c'è un sistema elettorale, si voti, il popolo vota, no, no, l'economist fa un editoriale folle, esce il venerdì l'economist, quindi è uscito ieri, l'editoriale folle dell'economist, che è da prenderli veramente e capire come questi famosi autorevoli giornali, poi alla fine sono giornali come tutti gli altri, con le loro idee politiche molto orientate, dice no, conviene fare un accordo nel Movimento 5 Stelle PD, e sapete perché, e ve lo dico perché, con più tempo al governo forse il Movimento 5 Stelle può dimostrare di saper governare, questo è quello che dice l'economist, dice non si deve votare, se no è un casino per l'economia italiana, è un casino per l'Europa, insomma, se si vota in Italia è un disastro, quindi meglio fare un cazzo di governo, dice l'economist, tra Movimento 5 Stelle e PD. Adesso a me va tutto bene, ma quelli dell'economist hanno seguito la questione dell'alta velocità? I liberali dell'economist hanno seguito la questione del reddito di cittadinanza? I liberali dell'economist sono d'accordo sulle imposizioni, le burocrazie, l'atteggiamento sul lavoro di questo governo? No, probabilmente no, non le hanno seguite, però a loro quello che non interessa è il nativ, il tremendo Salvini che dobbiamo distruggere, insomma l'economist è perfettamente in linea con Lascani, con tutti quelli che pensano che pur di salvare Parigi, cioè salvare l'Italia dalla distruzione salviniana, possiamo assistere a questa messa cantata orribile di un governo su cui non si riesce a capire su che cosa vadano d'accordo e soprattutto come qualcuno oggi titola il governo dei perdenti, come dice Gnocchi oggi sul giornale un governo dei perdenti, non era certo quello che pensavano i nostri costituenti. Un retroscena interessante oggi, ve lo segnano sul foglio, perché questo atteggiamento della Lega, mi sembra anche questo un po' schizofrenico, prima fai la crisi, poi dici che Di Maio deve diventare Presidente del Consiglio, insomma una roba da matti mi sembra, però il retroscena del foglio che cita Centinaio, che dice però altro in un'intervista non coperta, è il seguente, sentitelo bene, dice il foglio, la Lega sta offrendo di tutto di più a Di Maio e al governo nuovo con 5 Stelle e Lega, in modo tale che le pretese di Di Maio nei confronti del PD siano talmente elevate che il treno deragli. Avete capito? Insomma il gioco sottile, ma secondo me pericolosissimo, anche difficilmente comprensibile dell'opinione pubblica, come c'è litigato, è finalmente rotto il governo, adesso lo ricorteggi? Sì, lo ricorteggio, perché ricorteggiandolo cosa succede? Quello pretenderà di più dell'altra corteggiante, cioè il PD e salta tutto il banco. Boh, mi sembra un gioco rischioso, ma comunque è un retroscena interessante. Nel frattempo il PD, che dovrebbe essere l'alleato del Movimento 5 Stelle, litigano dandosi cazzotti come se fossero in un ring del testaccio, ma degli anni 80, 1880, Renzi ieri si fa sfuggire in una clip, lo notano tutti i giornali, insulti a Gentiloni, perché dice Gentiloni, che era il suo ministro degli esteri, by the way, insomma Gentiloni è quello che voleva far saltare l'accordo col Movimento 5 Stelle. Adesso che Renzi si arrabbi col suo ex ministro e poi nominato Presidente del Consiglio, perché sarebbe quello che vuole far saltare l'accordo col Movimento 5 Stelle, che lui stesso fino a poco e poi va, odiava e trattava a pesci in faccia, a me fa sorridere, ma soprattutto fa sorridere il fatto che questo sia il sapore delle trattative in questo momento. Sul Libero, Becchi, viene anche considerato così, mi sembra, dal filosofo Becchi, Grildino, Movimento 5 Stelle, poi dopo è diventato amico di Grillo, poi è diventato amico delle Ghisti, dice guarda a Feltri, guarda non è detto che il doppio forno, cioè l'alleanza Lega 5 Stelle sia del tutto morta, può sempre rispuntare, quindi darebbe peso alla teoria non complottista, ma del Movimento di Salvini che starebbe trattando veramente per fare un altro governo con loro. Comunque l'ostacolo vero a questo governo in questo momento è che Di Maio vuole Conte con un Conte bis e Zingaretti direbbe questo almeno questo no, concedetelo, non lo vogliamo. Mentre sta avvenendo tutto sto casino, in realtà continua il Totopremier, Giovannini sale e io trovo fantastico come il fatto rubrica il Totopremier, cioè la fuffa più fuffa di tutte, l'inchiesta, l'inchiesta del fatto è che Giovannini sale, Grasso arriverebbe alla giustizia che non sarebbe neanche male perché uno dei magistrati più equilibrati che ci sono, male nell'economia, ma come magistrato Grasso oggi in Leu non è così male, Fiano Ministro degli Interni, questo è diciamo il totonomine di oggi, devo dire la verità, ognuno, e questa la chiamo inchiesta, ogni giorno ce n'è una diversa. Due ultime, tre ultime cose, oltre alla chiesa di Di Maio e altro, ve le segnalo il titolo del tempo di oggi che si ricorda che ci sono stati tre governi scandalosi su una questione amatrice tre anni fa e non hanno fatto assolutamente nulla, quel poco che è stato fatto, dice Begis, è stato fatto dai privati. Renzi, Gentiloni e Conte, tante chiacchiere, molto distintivo e nulla per i terremotati, conviene ricordarlo. De Vito, ve lo ricordate, l'abbiamo difeso in queste zuppe, Presidente Grillino del Consiglio Comunale di Roma, arrestato, buttato in galera, anche se Grillino non c'è motivo però di non essere garantisti anche con lui e noi lo fumo in questa zuppa, oggi la Cassazione dice si tratta molto più di concetture che di realtà ha di corruzione, quelle per il quale è arrestato questo De Vito, arrestato oggi ai domiciliari, insomma questo vale sia per il 5 Stelle sia per le Tatarella che è stato arrestato prima delle elezioni europee, questi arrestano e poi dopo troviamo un giudice che si accorge che le concetture diventano motivi di arresti. Ultima cosa che vi segnalo, comperrebbe segnalarla anche forse a quei geni dell'Economist, la foto del sole 24 ore oggi della spiaggia leccese di San Foca dove doveva passare la TAP, c'è passata, il tubo l'hanno fatto, altro che distruzione di quella spiaggia, stanno i bagnandi sopra quella spiaggia, tutto avviene normalmente, non è successo nulla come tutti avrebbero promesso e forse nel futuro quando finirà la stagione estiva e si potrà rompere l'ultimo diaframma che non ha nulla a che vedere con la spiaggia, l'Italia sarà più indipendente energeticamente dalla Russia e questo lo vuole il cosiddetto filo putiniano Saldini. Direi che per oggi è tutto, se vi basta la zuppa oggi va a dormire perché qui ancora è appena iniziata la notte e vi do appuntamento come sempre domani. Ciao!